buonasera a tutte ragazze è da un bel po di tempo che non riesco a registrare un video ma questa volta ho deciso di fare un video unboxing scusate che intanto cerco di centrare un attimo il tutto allora un video unboxing perché ho fatto un ordine da un nuovo sito di materiali per perlinatrici e non perché comunque su questo sito ci sono veramente tante cose e il sito è quello della nostra cara michela marmuggi e quindi procediamo con lo spacchettamento allora intanto il tutto avvolto in un mare di pluriball quindi le cose sono veramente protettissime adesso vi faccio vedere tutto questo bel bustone di materiali allora intanto ci tengo a dirvi che il sito della nostra michela e fornitissimo e ci sono delle colorazioni stupende allora prendo solo il bigliettino così vedo anche tutti i dati allora il sito si chiama make bijou componenti e bijou questo è l'indirizzo del sito e qui dietro ci sono tutti i contatti della nostra michela quindi numero anche per se dovesse per caso avere problemi negli ordini magari volete un qualcosa e volete chiedergli se ve lo può reperire posso dirvi che michela è una persona dolcissima per il poco che la conosco posso dire che con me è stata veramente veramente disponibile io gli avevo chiesto informazioni su quando si potesse acquistare lei mi ha detto che il sito ufficialmente apriva il 25 di febbraio ma che se volevo acquistare prima di mandargli tranquillamente i codici dei prodotti che mi servivano e lei avrebbe provveduto comunque a spedirmi il materiale prima dell'apertura del sito quindi una persona veramente fantastica cui io auguro tutto il meglio e a cui voglio fare comunque nel mio piccolo un po di pubblicità perché penso che se la meriti veramente e ora procediamo con l'apertura dei pacchettozzi allora dove partiamo partiamo da questi allora io premetto che adoro i mezzi cristalli soprattutto quelli da tre millimetri e sul sito di michela io ho trovato delle colorazioni che mi hanno fatto impazzire allora spero in video di riuscire a farvele vedere ma ho i miei dubbi perché c'è una luce pessima io purtroppo riesco a fare i video solo alla sera vediamo però di cercare di concludere qualcosa allora io ho preso da 4 mm e da 3 mm allora aspettate che ve li divido allora facciamo vedere prima quelli da 3 quindi togliamo questi qui da 4 allora eccoci qua dunque questo è il codice p 250 io adoro le colorazioni le finiture ecced e michela mi ha sorpreso perché comunque sul suo sito ci sono praticamente tutte questo è un argento io con questa maledetta luce non riesco a farvi vedere una cippa lippa però ecco sono fantastici le confezioni sono da 50 pezzi questo è un ecce crystal full azzurro ed è qualcosa di veramente spettacolare con questi riflessi blu sono sono bellissimi poi ho preso crystal etched a b full adesso non mette più neanche a fuoco mannaggia la pupattola e sono questi sono veramente veramente belli 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 scusate ma come tutti sono un po influenzata questo ecce crystal full amber ed è una cosa strepitosa c'è veramente questo oro è qualcosa che mi ha fatto impazzire appena l'ho visto poi ecced crystal sunset full e anche questo qua ve lo raccomando veramente perché a questa colorazione sul rame aranciato bellissima poi crystal labrador full che l'argento con la finitura ecced e spettacolo poi ecce crystal celsian full che tipo un color albicocca molto chiaro molto molto delicato come colore ma bellissimo queste crystal orange rainbow che a queste questo cambio di colori bellissimo e poi crystal pomegranate metallic ice che sono veramente spettacolari io non amo solitamente i colori molto vistosi ma devo dire che questo rosso è qualcosa di bellissimo poi sempre mezzi cristalli li ho presi anche da quattro millimetri e ho preso purple iris gold bellissimi poi ho preso le quasi tutte le colorazioni ecced anche in questi da poter abbinare a quelli da 3 questo addirittura è un crystal glittery bronze dark è bellissimo c'è tante di quelle sfumature che poi anche qui ho preso questi qui che sono i crystal full a b l'orange rainbow anche in questo che veramente mamma mia poi ho preso crystal amber full dark che tipo un oro antico e poi full labrador dark che un argento antico poi proseguiamo se no facciamo un video che dura un'eternità e mezza ma visto che non vi stress soventissimo ci può anche stare allora io nella recensione del sito fatta da un'altra ragazza avevo visto queste goccine allora a parte che le colorazioni di queste gocce sono qualcosa di dire spettacolare e dire poco poi sono piccoline perché comunque sono molto piccine e io amo le gocce piccole ma oltretutto hanno questa finitura si chiamano proprio gocce effetto gomma ma non sono al tatto non sembrano gommate sembrano più tipo come se fossero vellutate sono molto lisce molto molto belle oltretutto perché veramente i colori sono qualcosa di spettacolare e io ovviamente per non nel dubbio ho preso tutte le colorazioni questo è il codice dell'articolo queste sono le bordeaux e sono 14 per 11 per 5 poi ho preso questo è un altro codice color ora scusate oro esatto e anche queste sono veramente wow poi ho preso questo rosso bellissimo poi ho preso il grigio che voi lo vedete scuro in video perché ho una luce pessima ma è più chiaro come colore è un bel grigio topo proprio bello come colore e sono belle anche al tatto c'è da una sensazione di morbidezza assurda poi ho preso verde scuro che è tipo un colore emerald bellissime anche questo è il prugna bello poi ho preso un po di cristalli perché il sito di michela è veramente molto fornito di cristalli in ogni forma e in colori che uno potesse ricomprerebbe tutti allora ho preso delle navette 15 per 7 le confezioni sono da quattro pezzi e ho preso la colorazione volcano che io adoro poi sempre navette ho preso color acqua poi oltretutto ragazze sono cristalli che sono perfetti sia sul retro che comunque cioè sbri lucicano anche dietro quindi figuratevi voi e sul davanti c'è ci si perde dentro questi cristalli hanno delle colorazioni dei riflessi bellissimi quindi complimenti a michela per la qualità dei materiali che hai sul tuo e commerce perché sono bellissimi sempre navette ho preso il colore sphinx che questo verde con riflessi blu cioè riescono a sparare i riflessi anche attraverso la bustina quindi figuratevi senza cosa sono poi ho preso delle goccine 14 x 10 bellissime anche queste altre goccine black diamond che sono belle belle poi sempre goccine golden shadow che mamma mia c'è fuori dalla bustina vi accecano queste io vi avviso poi ancora qualche navetta light sia perché io di rossa avevo poco avendo comprato le goccette gommose doveva abbinarci qualcosa sempre navetta meridian blu che è bellissimo è un blu con dei riflessi rosa viola stupendi e questo è colore emerald sempre da abbinare insieme alle goccette gommose poi ho preso ancora allora aspettate che apro la bustina ho preso dei cabochon doppio foro le confezioni sono da dieci pezzi e ho preso le ecce crystal graffite rainbow che mamma mia le amo le amo ragazze veramente non vedo l'ora di creare qualcosa con questi materiali poi ho preso il jet capri gold full bellissime e poi ho preso sempre cabochon doppio foro passe light brown e il jet lagoon full che è tipo un colore matite però ha dei riflessi un po più blu rispetto alle matite si è molto simile alle matite io ora non riesco neanche a farvi vedere bene il colore addirittura in video sembra quasi nero però vi garantisco che molto simile alle matite poi ho preso degli aghi della pony da 12 e ho preso queste monachelle color oro rosa nickel free che hanno questo diamantino sul davanti quindi mi sembravano molto molto carine poi io lavorando anche a volte con il wire mi serviva qualcosa di minuteria in oro rosa guardate che riflessi che fa questo diamantino che c'è qua sopra questo strass bellissimo comunque qualità ottima in tutto ciò che ho preso e vi ho lasciato per ultimo il meglio perché ho preso delle catene strass sono base oro in ottone con pietre di cristallo 50 centimetri color re da b e sono fantastiche rime lo so che non si dice ma io lo dico guardate qua io non lo so dove potete trovare un'altra catena così ma sono bellissime poi comunque lo spazio è molto ristretto perciò veramente 50 centrimi 50 centimetri scusatemi mi sincarta anche la lingua ma praticamente utilizzabili tutti perché c'è veramente poco spazio tra un cristallo e l'altro poi ho preso questa che è un peridote ab e anche qui guardate qua stupendo stupendo anche comunque la base in ottone perché è bella luminosa anche la base metallica perciò e sono sempre questo è sempre da 2,8 e da 2,8 ho preso anche questo che è un color aquamarine ab e guardate qua spettacolo veramente uno spettacolo bellissime bellissime tutte 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 spero di essere in grado di fare delle creazioni all'altezza dei materiali di michela perché sono wow allora questa invece è una catena sempre in ottone però con gli strassi 2 mm questo è un light rose gli strassi sono veramente piccini piccini ma guardate quanta luce che fanno ragazzi guardate qua è bellissima bellissime 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 e ho preso anche quest'altra colorazione che è un light saffier sapphire scusate io con l'inglese non ci vado d'accordo pazienza e anche qui veramente tanta roba tanta 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 roba e poi la nostra cara michela mi ha mandato anche questo pacchettino con gli omaggini e mi ha mandato come immagini allora questo bellissimo lemon cristallo 12 per 19 colore green zircon bellissimo anche questo io oltretutto cristalli lemon non ne ho quindi poi mi ha mandato questi piccoli charm smaltati probabilmente ha capito che mi erano piaciute le gocce e me ne ha mandate tre in più quindi perfetto poi mi ha mandato queste che suppongo siano delle rocaille 80 e mi ha mandato in omaggio anche un pezzetto di catena con questo colore spettacolare e bellissimo come del resto tutto il resto del materiale che ho preso però anche gli omaggi sono veramente belli abbondanti e utili perché comunque sono cose che si possono abbinare a ciò che uno ha comprato allora io vi rimetto qui davanti tutti i contatti della nostra cara michela la ringrazio e vi consiglio veramente di andare a dare un'occhiata sul suo sito anche perché michela mi ha detto che ha ancora un'infinità di cose da dover aggiungere e quindi c'è tanto 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 da guardare i prezzi sono ottimi la qualità è ottima michela è fantastica e quindi cosa volere di più diamo il nostro piccolo contributo a far crescere questa attività di michela questa sua nuova attività e quindi ragazze mi raccomando io nell'info box vi metterò comunque il link del sito se il video vi è piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al canale se non siete iscritti cliccate sulla campanellina così quando riuscirò a pubblicare qualche video sarete aggiornate per adesso è tutto un bacione grande e vi auguro una buona serata e un buono shopping da make bijou ciao ragazze